Oggi all'ordine del giorno anche le nuove norme in materia edilizia. Sicuramente in discussione il ricepimento delle norme per la ripresa e lo sviluppo che dà dell'indicazione per quanto riguarda il rilancio del settore edilizio che fa perno sull'aumento delle cubature per cercare di rimuovere un settore che effettivamente incontra delle grosse difficoltà. Sul principio delle cubature, visto che oggi non abbiamo più nessuna possibilità di dare dei contributi per l'adeguamento del patrimonio edilizio esistente potremmo pure essere d'accordo. Il problema è che bisogna farle però all'interno di regole certe e all'interno della pianificazione. Quello che per me è inconcepibile è che si discute di una parte di una norma della materia edilizia senza tener conto che in Consiglio giace sia le norme di materia edilizia e sia il quadro più generale e le norme per il governo del territorio. Quindi significa puntare al particolare, puntare al settore edilizia e non avere ben a mente la pianificazione territoriale.